Allora, buongiorno, grazie a tutti di essere venuti a questo dibattito, insomma che penso sia molto molto interessante in quanto parla di fake news, reputazione e soprattutto fiducia reciproca, diciamo, mondo del giornalismo, mondo dell'informazione e mondo delle ONG. Io sono Gianni Del Vecchio, sono il condirettore dell'Huffington Post e alla mia destra c'è Gabriele Eminente che è il direttore generale di Medici Senza Frontiere, alla mia sinistra Marco De Ponte che è segretario generale di Action Aid e infine abbiamo Paola Barretta che è la ricercatrice dell'osservatorio di Pavia, che è un osservatorio molto importante che si occupa di monitorare appunto come i media coprono insomma i fatti e le vicende. Allora io direi di entrare subito nel tema, diciamo, fondamentale di questo nostro panel. Un panel che nasce per il fatto che negli ultimi anni, anzi forse nell'ultimo anno, i rapporti fra le organizzazioni non governative e il mondo del giornalismo, diciamo, non dico che sia inclinato ma comunque ha segnato un po' un attrito abbastanza forte per varie vicende. La vicenda principale ovviamente è stata tutta quella dei migranti, delle navi delle ONG che insomma hanno fatto salvataggi soprattutto nelle acque, diciamo, internazionali italiane, insomma, fra l'Italia e la Libia e questo ha provocato lo scontro prima col governo italiano ed è diventato un tema di dibattito politico. Poi c'è stato un altro grosso scandalo che ha convolto soprattutto Oxfam su degli abusi sessuali sessuali fatti appunto nelle zone di guerra e quindi, diciamo, il cosiddetto mondo insomma delle organizzazioni non governative, il mondo dei buoni, in qualche modo è finito invece sotto processo e quindi chi meglio di delle organizzazioni in sé, insomma, dei vertici delle organizzazioni può aiutare, insomma, a farci capire, diciamo, perché dal loro punto di vista la copertura mediatica è stata in qualche modo carente e io invece dall'altro lato della barricata con, diciamo, un ruolo un po' terzo di arbitro dell'osservatorio di Pavia, diciamo, cerchiamo di capire quali sono stati i problemi, insomma, che ci sono stati. Io parto brevemente solamente con una precisazione e poi da lì possiamo partire con la chiacchierata. Si parla tanto di fake news, il fenomeno di fake news è diventato di moda, è diventato quasi il tema per eccellenza di cui parlano tutti i giornalisti oggi, però dobbiamo dire che in realtà sotto l'ombrello delle fake news adesso tendiamo a mettere anche un fenomeno invece che è abbastanza diverso da quello delle fake news e che è antico come il mondo, diciamo, antico come il giornalismo, insomma, che c'è da quando Gutenberg ha inventato i caratteri mobili e c'è il tema delle campagne di stampa. Spiego un attimo, insomma, la differenza per i non addetti ai lavori e che è comunque fondamentale. Quando si parla di fake news si parla appunto di una notizia completamente falsa, completamente inventata, che viene poi propagata tramite i media, tramite i social, tramite i media che non la verificano ovviamente e diciamo quindi questa fake news poi va a inquinare l'informazione, insomma, quella invece più verificata, salutare. Invece le campagne di stampa sono qualcosa di diverso, cioè quando determinati media, determinati organi prendono dei fatti e comunque si sono verificati, dei fatti concreti e su questo però ci montano una campagna per fini terzi, dove il fine terzi appunto può essere un fine politico, un fine ideologico e via dicendo. A me sembra che quello che è successo un po' con le ONG, soprattutto poi nel caso dei salvataggi in mare, sia stato un po' più questo, cioè sia stata una campagna di stampa che è stata fatta da determinati media con una finalità più o meno politica, insomma. nel senso che alcuni media, più che altri, penso a quelli di centrodestra o quelli vicini al Movimento 5 Stelle, hanno montato su una forte campagna sull'inchiesta della Procura di Catania su presunta collaborazione fra le ONG e gli scafisti libici. E questa cosa è successa ovviamente perché siamo stati in campagna elettorale e c'era bisogno appunto da un punto di vista mediatico di portare in qualche modo dalla parte, insomma, di Salvinio, il Di Maio, di Turno, il maggior numero di votanti, il maggior numero di italiani e quindi da questo punto di vista forse le ONG sono rimaste un po' vittime di una specie di danno collaterale perché sono state le vittime designate di questa campagna che poi effettivamente ha avuto dei fini politici. Volevo appunto, diciamo, sapere da Gabriele Eminente, quindi che con Medici Senza Frontiere, loro sono stati in prima linea, quindi, nelle acque di fronte alla Sicilia per salvare i migranti e che queste state, insomma, hanno vissuto in prima linea tutto questo. Se questa mia interpretazione è un'interpretazione corretta, se ho sbagliato qualcosa, se, insomma, c'è qualcosa di diverso che invece è successo. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì? No? Ora sì. Ma direi che sì, mi ritrovo abbastanza nella ricostruzione e nell'interpretazione, nel ricondurre gran parte di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno a un'idea di campagna. Forse mi ritrovo un po' meno nella identificazione degli attori principali di questa campagna e delle sue dinamiche, nella misura in cui se c'è un attore primario, quantomeno come originatore di questa campagna, personalmente più che vederlo legato alla dinamica pre-elettorale italiana, lo ritroverei in alcune istituzioni europee e in Frontex in particolare, che è l'agenzia europea che si occupa di controllo delle frontiere, che non casualmente era stato già un attore determinante nel portare, come dire, nel causare in qualche modo la fine dell'operazione Mare Nostrum due anni prima e lo è stata nel attivare con un suo rapporto, diciamo appunto questa campagna di cui parlavamo prima. Sul rapporto di Frontex poi si sono, come dire, innestate da un lato iniziative della magistratura, in particolare quella catanese, dall'altro anche là una serie di, ora non so se attribuirgli la connotazione di fake news, ma comunque di inesattezze più o meno, diciamo, casuali, più o meno involontarie. Ad esempio il fatto di ricondurre a Frontex stesso l'accusa di taxisti del mare, di taxi del mare, poi si è visto che non era così. Diciamo che la politica e la situazione pre-elettorale italiana ha trovato un terreno molto fertile, così come anche appunto l'avvio delle attività della magistratura per accodarsi a quella campagna, ma comunque è una campagna che aveva un ambito e ancora un ambito che va oltre i confini italiani e non è un caso appunto che è stata attivata da un'agenzia europea in un clima, che è un clima che respiriamo non soltanto in Italia ma in tutta Europa, che certamente non era favorevole ma anzi ha mirato anche ad accrescere un'ostilità nei confronti di organizzazioni come la nostra e ostilità in generale per chi si occupa di migrazione e chi esercita solidarietà nei confronti dei migranti. In tutto questo, lo anticipo soltanto poi chiaramente lo svilupperemo più avanti, il ruolo dei media. I media italiani, penso innanzitutto ai media tradizionali, quindi cartacei, televisione eccetera, di questo poi ci parlerà sicuramente meglio di quanto posso fare io anche Paola. I media italiani, quello che abbiamo vissuto sono io? Abbiamo vissuto una spaccatura, abbiamo vissuto una spaccatura all'interno delle redazioni, abbiamo vissuto una spaccatura all'interno dei media, senza dubbio quello che dicevi prima, rispetto a un ruolo però che francamente ci si aspettava di una parte dei media, ovvero quelli più vicini ad esempio all'ambito Berlusconi, Forza Italia, forse un po' diverso il discorso per quanto riguarda il fatto quotidiano, ma insomma non limiterei anche là soltanto a questi attori un ruolo attivo all'interno di questa campagna, ci sono state anche altri media, altri giornali allo stesso interno del Corriere della Sera, Repubblica fino a un certo punto, a un certo punto c'è fino a un certo momento, ci sono state posizioni che in qualche modo si sono accodate allo sviluppo di questa campagna, ma soprattutto ripeto e concludo abbiamo visto una spaccatura all'interno delle redazioni stesse, cioè all'interno dello stesso giornale c'era in prima pagina l'editoriale dell'editorialista pro Minniti per intenderci e a pagina 4 e a pagina 5 il reportage dell'inviato speciale che raccontava invece in maniera anche molto forte quello che stava succedendo in Libia e quindi da cosa fuggivano le persone che la campagna cercava di bloccare per l'appunto sulle coste della Libia. Quindi ecco, senza dubbio campagna sì, ma forse con un livello di complessità che va oltre l'Italia e che ha anche un po' spaccato i vari mondi, il mondo dei media, il mondo delle istituzioni, eccetera. Paola, tu che appunto ti occupi proprio di questo tutti i giorni, insomma, quindi fai ricerca, diciamo, dal tuo punto di vista come hai ricostruito, insomma, per esempio questa vicenda, quest'estate, i media come si sono comportati? I media tradizionali perché noi nel corso del 2017 abbiamo provato a capire che cosa era successo rispetto alla rappresentazione delle Sara e in particolare di che cosa era accaduto perché ad un certo punto siamo partiti da un'osservazione che è il calo di fiducia nei confronti delle organizzazioni non governative. Alla fine, intorno a settembre, insomma dopo l'estate, un sondaggio che aveva condotto Demos, l'istituto diretto da Ilvo Diamanti, aveva chiesto agli italiani ma qual è la fiducia nei confronti delle organizzazioni non governative e la risposta è stata abbastanza significativa, cioè pensate che mediamente la fiducia nei confronti delle associazioni di volontariato in genere si assesta intorno al 62-63%, dopo tutto quello che era accaduto durante l'anno, durante soprattutto i mesi di marzo e di aprile, questa fiducia specificatamente nei confronti delle organizzazioni non governative era calata di 20 punti, cioè si attestava intorno al 40-42%. L'altro elemento interessante era che rimaneva costante quella invece nei confronti delle organizzazioni di volontariato in genere, quindi era come se si fosse verificata una desemantizzazione, cioè le ONG perdono fiducia, le organizzazioni di volontariato in generale la mantengono, quindi come se tutto quello che era avvenuto rispetto alla diffusione del sospetto intorno a chi svolgeva i salvataggi in mare, rispetto alla definizione stessa di ONG, perché nel rapporto di carta di Roma che l'osservatorio cura tutti gli anni, ad un certo punto ci siamo trovati ad avere tra le prime parole dell'immigrazione durante tutto l'anno sulla stampa italiana ONG, un termine che in tutte le altre arrivazioni precedenti non esisteva. Quindi c'era stata una forte visibilità delle organizzazioni non governative in una cornice negativa. E non è tanto, secondo me, c'è la questione delle notizie false, c'è tutta l'azione deliberata di coloro che raccontano e che dicono, per esempio, che le ONG si muovevano autonomamente nel mare. Non è vero. Tutte le ONG si muovevano con il coordinamento della Guardia Costiera, Medici Senza Frontiere, come S.S. Mediterranea e come tutte le altre organizzazioni coinvolte si muovevano nel mare su precisa indicazione. Non è che un mattino, a un certo punto, una nave decideva domani io mi occupo di quella porzione di mare. No, quella era una falsità. Allo stesso tempo, accanto a notizie deliberatamente non vere, c'era tutta la parte delle notizie non dette. Delle notizie non dette o delle notizie non dette correttamente, che non sono quindi necessariamente fake news, ma sono anche magari una semplicità, una semplificazione giornalistica, non di tutti, diciamo di una buona parte dei media, soprattutto dei media mainstream, dei telegiornali, di una certa stampa. L'esempio era sulle commissioni di inchiesta, per esempio. Ad un certo punto nella narrazione giornalistica si è affermata dopo l'inchiesta della procura di Catania, quindi notizia che doveva essere data, dopo le posizioni della politica, notizie che dovevano essere riprese dai media, ovviamente, si inizia a parlare di commissioni di inchiesta. In realtà non erano delle commissioni di inchiesta, non sono state delle commissioni di inchiesta. Le commissioni di inchiesta in Italia, pensate a quelle di Ustica, a quello dell'omicidio Moro, sono istituite con un articolo della Costituzione perché il Costituente ha pensato quanto fosse importante avere un ampio sostegno parlamentare per attribuire a una commissione dei poteri che sono paragonabili a quelli dell'autorità giudiziaria. Nel caso SAR non sono state create ad hoc delle commissioni di inchiesta. Le commissioni presenti, la quarta commissione difesa al Senato, piuttosto che la commissione alla Camera sul controllo delle frontiere di Schengen, si sono occupate a fini conoscitivi di quanto stava avvenendo in mare. Però pensate bene, anche nell'opinione pubblica, il fatto di chiamare quel tipo di indagine conoscitiva, di definire la commissione di inchiesta, fa venire in mente quella cosa lì, cioè fa venire in mente le grandi commissioni di inchiesta e quindi che qualcosa lì in mare stesse accadendo. Quindi il legame tra rappresentazione, soprattutto la rappresentazione mainstream che poi viene amplificata con questo rapporto di relazione continua con i social, ha creato una percezione di sospetto, di diffidenza e quindi poi un calo di fiducia nei confronti delle organizzazioni non governative. Marco, la tua organizzazione non fa salvataggio in mare, però comunque ha rilevato insomma un po' questo calo di fiducia e di consenso di cui parlava Paola e anche voi in qualche modo ne risentite perché appunto quando, come è l'alto, la bassa marea, quando c'è la bassa marea si abbassa l'acqua, insomma, si abbassa per tutti, insomma, non solamente per chi è coinvolto praticamente. Tu come hai vissuto quest'estate, insomma, quali sono stati poi gli effetti per tutto il mondo, insomma, dell'ONG da questo punto di vista? Guardate, io credo che in questa occasione in cui, diciamo, probabilmente c'è gente in sala o che ci ascolta che fa mestieri simili, in un certo senso quello del giornalista o quello di chi fa il testimone di situazioni di disagio è in qualche modo assimilabile, la domanda che dobbiamo porci non è tanto o solo quali sono gli impatti di medio periodo o breve periodo su organizzazioni come le nostre, perché sennò tutto arriva a rischiare di essere un'ulteriore semplificazione, cioè va bene, cala la fiducia in un paese solo, allora cosa succede? Abbiamo magari meno risorse, meno persone che ci considerano buoni o riusciamo ad essere meno simpatici a qualcuno o strumentalizzati da altri? Invece la questione che secondo me bisogna porre veramente di lungo periodo a livello internazionale riguarda direttamente la qualità della nostra democrazia e delle nostre democrazie. Innanzitutto mi sembra utile osservare che quando sono successi questi episodi con Gabriele e altre organizzazioni significative, anche chi non era direttamente toccato, ha sentito il bisogno, non dico di correre in aiuto alla cieca, ma di far notare appunto che cosa stava succedendo, sia sulla qualità delle notizie che venivano diffuse, sia sul ruolo degli attori civici qualunque sia all'interno di una società civile che comunque nelle democrazie liberali occidentali almeno è organizzato ed è stato un elemento di qualità di queste democrazie. Quindi la domanda di fondo è ma noi abbiamo bisogno o di una società civile che sappia guardare, anche intervenendo ovviamente, ma guardare facendo quello che succede, facendo rilevare quello che non va, proponendo alternative alle istituzioni, eventualmente anche evidenziando diciamo quelli che sono poi abusi dei diritti umani in Italia e in giro per il mondo, o vogliamo invece una società civile che sia solo esecutrice di servizi al welfare piuttosto che servizi di altro genere. Questa domanda di fondo secondo me... Quella che una volta si diceva fare politica, ma nel senso insomma nobile... Nel senso nobile del tema la risposta che noi ad ActionAid ci diamo sempre è che non abbiamo nessuna paura di fare politica con la P maiuscola, ma non con l'ottica rivendicativa sindacale diciamo, perché diteniamo che la libertà di operare, criticare, osservare e quindi contribuire diciamo ad un dibattito aperto, informato, ragionevole tra tutte le componenti della società sia diciamo il sale della democrazia. E quindi per rispondere alla tua domanda in quell'occasione abbiamo cercato di far emergere queste cose e abbiamo cercato di far emergere queste cose in tutte le altre occasioni che poi si susseguono e secondo me si andranno a susseguire in maniera piuttosto sistematica. E vorrei dire anche un'altra cosa. Questa idea che diciamo le ONG o le organizzazioni di volontariato, che poi è il terzo settore che è un concetto americano nel quale poi gli attori civici sono veramente una piccola parte, cioè quelli che vogliono trasformare la società, sono una piccola parte di quelli che magari si organizzano per andare a giocare a bocce o per fare l'attività culturale eccetera. In questo quadro non c'è solo la dinamica diciamo tra gli attori, la politica mainstream e la stampa, c'è anche come dire poi tutta una serie di misure che non solo in Italia si stanno organizzando riducendo questo spazio di dibattito e questo spazio politico. Esistono dei dati, mi era preso un appunto, dei dati per cui negli ultimi anni circa 120 leggi in 60 paesi sono state approvate che in realtà chiudono questo spazio. A volte sono leggi proprio direttamente minate a ridurre lo spazio operativo della società civile, in altri casi sono sovraccarichi di burocrazia amministrativa e super controlli. Il nostro settore, se lo vogliamo chiamare così, in Italia anche, anche con la riforma del terzo settore, ma in Europa, del mondo, è uno dei settori più controllati che esistano. Noi dobbiamo produrre rapporti per i donatori, produrre rapporti per le istituzioni, avere organismi di vigilanza, avere strutture di controllo interno volontari delle quali assolutamente volentieri ci dotiamo. Ecco, quindi forse si è strumentalmente, io penso anche, quindi non del tutto casualmente, voluto, diciamo, attrarre l'attenzione sul dito quando i problemi veri alla fine sono. Come vivono le persone, in quel caso in Libia, come vivono le persone una volta che sono arrivate in Italia, come vivono gli stessi italiani dove ci sono ormai 7-8 milioni di persone sotto la soglia della povertà. Queste sono le domande che noi, ONG, attori civici, anche insieme alla stampa dobbiamo aiutare, diciamo così, ammettendo che ci sia una buona volontà dall'altra parte, a far emergere perché siano date delle risposte in un dialogo fruttuoso. Questo è il ruolo che noi giochiamo, non quello della preoccupazione perché perdo mille donatori. Fortunatamente ci sono ancora, però non è detto che vada avanti all'infinito, ci sono pochi importanti soggetti civici che non hanno una dipendenza esagerata da un donatore istituzionale, non hanno una dipendenza esagerata neanche da un magnate o due, che investono le giornate a venire a parlare del festival del giornalismo, che non è scontato perché la logica del progetto è invece eseguimi anche il salvataggio in mare, eseguimi l'ospedale, eseguimi l'ambulanza, eseguimi quello, è riduttivo, insomma la società civile italiana può e deve fare molto di più. Esatto. Allora, è importante, diciamo, ovviamente come certi fenomeni vengono raccontati appunto, poi io faccio il giornalista e questo è il mio mestiere, però è importante anche capire i fenomeni sociali che si muovono sotto, perché per quanto appunto, come dicevo, prima, è abbastanza semplice vedere come ci siano state delle campagne fatte anche mediatiche contro l'NG e via dicendo, però è anche innegabile il fatto che noi viviamo oggi in un periodo, almeno negli ultimi dieci anni, da quando è scoppiata la crisi economica nel 2007, in un periodo in cui il ritorno dei nazionalismi e dei sovranismi è un fatto che si respira quotidianamente tutti i giorni, cioè in che senso? Nel senso che noi ci siamo resi conto, è il primo poi paradossalmente che si è reso conto da un punto di vista giornalistico, è stato l'Economist, che è sempre stato l'alfiere della globalizzazione, però è stato il primo che si è reso conto che la globalizzazione è fallita. È fallita in che senso? Ha portato tanti vantaggi, ma è fallita perché la redistribuzione reddituale si è clamorosamente spereguata, insomma, sia da un punto di vista statuale, quindi fra stati che all'interno dello stesso Stato. C'è un passaggio di reddito e quindi di quote di benessere dalle vecchie società occidentali invece ai paesi emergenti, parlo la Cina, la Russia, l'India, eccetera, eccetera. Ma anche all'interno degli stessi paesi, come dicevo, quindi. E anche in Italia, se si vanno a prendere i dati Istat, si vede che è un numerino che è molto interessante, che è l'indice di Gini, il coefficiente di Gini, che ci racconta la redistribuzione reddituale all'interno dell'Italia, cioè i redditi dove vanno a finire, ci racconta che i ricchi diventano più ricchi, il cedo medio scivola verso la povertà, il povero diventa più povero. Diciamo, quindi questo contesto, insomma, macroeconomico ha fatto sì, e lo vediamo tutti i giorni appunto, che comunque nelle società occidentali cominciasse ad alleggiare un po' una paura. Paura intanto per il futuro, perché magari questa è la prima generazione, la generazione mia, io ho 40 anni, in cui i figli vivono peggio dei genitori, ma peggio non solo da un punto di vista proprio di benessere, perché magari il livello di benessere è lo stesso, ma ti parlo come prospettive future, no? E quindi, diciamo, il rigurgito, insomma, nazionalista, sovranista, è un po' una conseguenza di tutto ciò. Non è un caso che poi alla fine, alle ultime elezioni, se si mettono insieme a Fratelli d'Italia, alla Lega di Salvini, più i Cinque Stelle, insomma, cioè, comunque, le forze che vengono definite populiste, ma insomma, non è populismo, è proprio forze identitarie, sovraniste, hanno preso il 55 barra 60 per cento dei voti. Quindi, ok, i giornalisti forse non sempre riescono a raccontare bene, diciamo, determinate dinamiche, però è anche innegabile che un vento sta cambiando, nel senso che ormai gli italiani hanno paura dell'invasore, cioè dell'invasore alle porte, e anche il semplice migrante, che invece vorrebbe venire per trovare lavoro, per trovare fortuna, è visto quasi come un competitor. Quindi, questo fenomeno c'è. Quindi, a prescindere da come possa essere raccontato e come possa essere strumentalizzato, e su questo appunto ho fatto questa premessa, proprio perché, essendo un operatore dell'informazione, capisco bene. Però, le ONG, davanti invece al fenomeno che sta sotto, no? Quindi, il fenomeno sociale, al di là della copertura mediatica, come vi ponete, insomma? Perché poi, forse, magari, la sfida vera vostra è questa qui, è cercare di fronteggiare questo cambiamento di clima. Vent'anni fa non fronteggiavate, no? Questo clima, era totalmente diverso, anzi, vent'anni fa forse, diciamo, è stato il periodo d'oro, da un punto di vista dell'engagement, dell'impegno proprio sociale, no? Innanzitutto, riprenderei quello che hai appena detto, ovvero, partirei dalle paure, no? La paura dell'invasore, la paura dell'invasore, sicuramente c'è da noi, ma c'è ancora di più nei nostri, come dire, concittadini europei, dei paesi del gruppo di Visegrad, con l'elemento in più che in quel paese non entra un migrante che sia uno. Quindi, è una paura che, come dire, è frutto anche del lavoro, del lavoro, ahimè, abile, che è stato fatto nel corso di questi anni in termini proprio di costruzione di una narrativa e anche di un sentimento dal punto di vista di alcuni aspetti. L'agenda di Guppartilavi evidentemente è un'agenda che è là, l'agenda appunto dei nazionalismi, dei sovranismi, eccetera, e di fatto è un'agenda che sta rimettendo in discussione, rimette in maniera molto netta in discussione un sistema valoriale che, ora senza voler andare troppo sui massimi sistemi, ma comunque nasceva all'indomani della seconda guerra mondiale, dove alcuni temi, alcuni concetti di cui leggiamo in questi giorni, abbiamo letto in questi anni, erano totalmente inaccettabili. In questi giorni si legge della teorizzazione dell'ottimo Orban, del concetto di democrazia illiberale, che francamente non avrebbe avuto, come dire, nessun tipo di... L'ossimono. Esattamente, l'ossimono. In questo contesto qua è evidente che c'è, come dire, fa parte anche di questa agenda l'erosione, sempre appunto dal punto di vista del sistema valoriale di cui parlavo prima, l'erosione dello spazio umanitario, l'erosione di molta parte del sistema dei diritti umani, con un arrivare anche molto rapidamente, purtroppo, prima in altri paesi, ma ora anche qui da noi, a criminalizzare, ad esempio, chi fa solidarietà. Ed è un tema che, come dire, riguarda... In qualche modo possiamo ricondurre a quello di cui parlavamo prima, no? Alcuni aspetti di quello che abbiamo vissuto sulla ricerca e soccorso in mare l'anno scorso, ma forse ancora più pericolosa è la criminalizzazione della solidarietà veramente, come dire, di base, della società civile di base, che abbiamo visto, testimoniato in tante piccole organizzazioni o volontari, come dire, singoli, che si sono attivati a Gorizia, a Ventimiglia, in tanti contesti, la cui attività, per l'appunto, viene criminalizzata o comunque impedita, come diceva Marco prima, anche attraverso misure amministrative, no? Ti fermo perché stai, come dire, dando pasti ai migranti con... non rispettando quelle che sono le regole dell'igiene, perché stai dando con un pentolone, no? Dove hai fatto prima la pasta e questo non va bene secondo le regole dell'igiene, bla bla bla. E quindi questo chiaramente, ripeto, fa parte di questa agenda e anzi, probabilmente è uno degli elementi, dei primi elementi nell'implementazione di questa agenda, mi sento di dire, insieme alla criminalizzazione o al rendere più difficile il vostro lavoro, il lavoro dei giornalisti e dei media. Per rispondere alla tua domanda, che cosa facciamo noi? Come ci poniamo noi rispetto a questo? Rispondo per me di Scienza Frontiere, quindi l'organizzazione medico-munitaria, evidentemente la nostra risposta non può che essere quella di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, nello stesso modo da 45 anni, ovvero continuare a rispettare questi valori, a tenere fede a questi valori, a cercare di difendere lo spazio umanitario, a cercare di farlo sempre nel modo più intransigente possibile dal punto di vista dell'indipendenza, dell'imparzialità, della neutralità. Se vogliamo appunto tornare a quanto dicevamo prima, la stessa scelta di non firmare il codice di condotta l'anno scorso è stata una scelta unicamente fondata su questo, non è che c'era una qualche valutazione politica del momento, cose di questo genere, era una decisione totalmente radicata nel nostro sistema di valori, quindi è veramente uno scontro fra sistemi valoriali. Noi non possiamo fare altro che, e lo facciamo con grande energia e con grande fierezza, continuare a comportarci coerentemente con il nostro sistema così come abbiamo fatto. Serverebbe secondo te anche una operazione che una volta si sarebbe detto contro-culturale, nel senso perché ormai purtroppo il mainstream culturale è appunto questo qui sovranista, come diciamo identitario, cioè quello che forse un po' vi agevolerebbe un po' è ritornare e far uscire fuori insomma questo sistema valoriale che oggi è stato messo un po' in minoranza, un po' in disparte. Ma in parte, come dire, lo facciamo, lo facciamo nel nostro quotidiano attraverso le scelte che facciamo, ma lo abbiamo ad esempio cominciato a fare da qualche giorno con una campagna che abbiamo avviato qua in Italia, abbiamo lanciato qua in Italia, che è una campagna che punta che si chiama Umani, non casualmente, e che punta veramente a mettere al centro di nuovo l'umanità del gesto umanitario, se mi perdonate il gioco di parole, e che mette al centro anche proprio le emozioni e i sentimenti di chi fa umanitario e di chi anche beneficia dell'attività umanitaria. Ma non è soltanto questo. C'è un tema che ci poniamo costantemente, ovvero anche quanto, come dire, quanto dobbiamo, ad esempio come Medici Senza Frontiere, porci anche a tutela di altre organizzazioni più piccole, piuttosto che di altri soggetti della società civile, prendendo, facendo nostre delle istanze in qualche modo diventando, come dire, parte un po', se mi passa, un concetto che metto tra molte virgolette, di una resistenza rispetto a questa alterazione di quei sistemi valoriali. Non è così scontato, perché poi noi siamo un'organizzazione medico-umanitaria, in questo è anche interessante, ActionAid ha un'agenda invece che è molto più orientata alla qualità della politica, le nostre scelte politiche invece sono sempre scelte orientate a, funzionali all'azione medico-umanitaria, però nella situazione in cui siamo evidentemente ci troviamo a fare anche questo e fa parte oggi forse del nostro lavoro. Allora Paolo, vengo subito da te, però volevo girare la stessa domanda a Marco e poi invece voglio chiedere una cosa secondo me molto interessante. Quindi diciamo questa operazione di resistenza, mi piace molto il termine che ha utilizzato Gabriele, di resistenza culturale da questo punto di vista. Sicuramente c'è bisogno di fare questo lavoro di resistenza, a mio modo di vedere se vogliamo girarla in positivo la resistenza non basta perché rischia di portarti come dire a sognare un piccolo mondo antico che magari come dici tu non c'è, quindi bisogna resistere, aiutare chi resiste e poi proporre diciamo così l'alternativa. Anche qua vorrei prendermi due minuti per fare uno sforzo di inquadramento. Quello che tu hai descritto, diciamo, di una crescita molto forte, paradossalmente meno forte in Italia che in altri paesi, va detto, della diseguaglianza, è il tema di questo decennio. E questa diseguaglianza cresce all'interno delle società, non solo dividendo quindi l'Occidente ricco del resto del pianeta di fatto. Tu che sei un economista avrai letto, studiato Atkinson o Banco Milanovic, il suo famoso elefante nel quale sostanzialmente dice che ci sono gli ultimi che rimangono ultimi. I penultimi, cioè le persone che in Cina, in India, ma anche in certe parti delle società più avanzate, hanno tratto molti benefici in realtà dalla globalizzazione. Poi ci sono i vincenti, quelli che sono diventati super ricchi e c'è tutta questa classe di mezzo che invece è quella che appunto vede meno prospettive per il futuro, quindi diciamo la faccia dell'elefante prima della proboscide dei ricchissimi. Quello che manca un po', ed è un'ironia se la guardiamo oggettivamente, è la saldatura tra gli ultimi, i penultimi e quelli che sono diventati perdenti per diminuire lo strapotere dei vincenti. Però questi sono il famoso 99% dell'umanità, quindi il dover, il poter focalizzare la propria attenzione, per esempio per un'organizzazione come la nostra, non solo sulla povertà to cure, ma sull'ingiustizia che sta fondamentalmente alla base di questo divaricarsi, cioè sulla diseguaglianza, è un passo, un contributo intellettuale e operativo per cambiare anche la narrazione, perché quelli che hanno votato Trump non beneficeranno particolarmente delle politiche di Trump, quelli che forse in passato hanno votato, non so, più recentemente per non entrare in Italia, la Le Pen, forse non saranno quelli che beneficeranno dal fatto che si siano presi tanti voti da quella parte dello spettro politico. Allora bisogna ritornare, che cosa facciamo noi, dal piccolo villaggio indiano, ritornare o cominciare diciamo dal piccolo villaggio indiano alla periferia di Reggio Calabria, alle favela di Rio de Janeiro, a proporre delle riflessioni. In Italia poi c'è un caso particolare che secondo me vale sempre la pena di ricordare, c'è questo investimento nella società per tutto il dopoguerra è stato fatto da due grandi tradizioni politiche opposte, quella diciamo del mondo cattolico e quella secolare, avevamo il partito comunista più grande d'Occidente, quindi si discuteva negli oratori e si discuteva nelle case del popolo. Nell'ultimo ventennio si è smesso di discutere e quindi la dinamica autoritaria più che populista trova uno sfogo, perché è chiaro che c'è una competizione percepita più che reale tra gli ultimi e i penultimi e quindi bisogna invece lavorare perché gli ultimi e i penultimi possono ragionare su come unendosi a quella comunque crescente classe media che esiste nel mondo, forse si può, come dire, se proprio si deve combattere qualcuno una logica classista è quelli che prendono non solo dai redditi peraltro, ma anche con le ricchezze acquisite, cioè la diseguaglianza non è solo di reddito, è anche una diseguaglianza di patrimonio, una diseguaglianza di riconoscimento, ci sono ampi studi su questo. Una diseguaglianza di opportunità. Le opportunità dipendono tantissimo paradossalmente, neanche tanto dal reddito perché devi cominciare a lavorare, ma di quanto riesci a lavorare, di quanto era ricco tuo padre e tua madre, quanto conto tantissimo dove sei nato, perché effettivamente se sei nato... La famosa ascensore sociale. Esatto, ma poi anche tra paesi, perché in fondo le migrazioni, torniamo sempre là, ma non è che uno che è nato in Mauritania o in Niger ha le stesse opportunità di uno che è nato al centro, ma anche solo di Perugia, no? Quindi ci sono tante faglie, qualcuno le ha chiamate Atkinson, sulle quali, come dire, c'è da lavorare mettendo al centro la diseguaglianza come problema di giustizia sociale, di diversità di potere. Non sono tanti, e quindi lo faccio anche mettendo a disposizione un'autocritica, se vogliamo, delle NG. Non sono tanti gli attori civici che riconoscono a se stessi l'obbligo di evidenziare queste cose. Molti, come ho detto prima, si accontentano, tra virgolette, di fornire il servizio. Ed evidentemente non basta, perché se il terreno si continua a perdere c'è un motivo. Ok. Paolo, ti volevo chiedere invece, dal tuo punto di vista privilegiato, allora siamo più o meno tutti d'accordo con il fenomeno economico-sociale che sta dietro un po' a questo ritorno del sovranismo, dell'identitarismo, eccetera, eccetera. Però, secondo te, quanto poi influisce in tutto ciò la narrazione fatta dai media di questi fenomeni? Cioè, è il media che poi esaspera e quindi in qualche modo va a cambiare anche la percezione dell'opinione pubblica, dell'immaginario collettivo? oppure in realtà va solamente ad amplificare un fenomeno che di fatto c'è? Diciamo, qual è il crinale, insomma, delle cose? Mi rendo conto che è una domanda abbastanza difficile, però, insomma, forse tu... Il gatto si muove la coda un po', no? Abbastanza difficile, anche perché non è semplice, soprattutto nei processi sociali, capire i rapporti di causalità, di causa-effetto. Diciamo che, qualche osservazione, insomma, qualche pensiero. Comincio da quanto aveva detto l'anno scorso a questo festival Alessandro Leogrande, scomparso, prematuramente. Mi era piaciuto molto perché l'anno scorso aveva detto, cioè, se noi non avessimo avuto l'opera di sensibilizzazione, di diffusione delle informazioni su alcuni fatti, molto probabilmente, faceva l'esempio del Cile di Pinochet, noi avremmo rimandato in Cile gli oppositori politici. Cosa significa? Che grazie al fatto che c'è un'informazione, una diffusione di notizie su alcuni fenomeni, noi entriamo in contatto con questi fenomeni, li conosciamo, li comprendiamo e quindi, come dire, riusciamo a comprendere che cosa sta accadendo in un'area o in un paese. Medici Senza Frontieri per anni si è occupato di crisi dimenticate, dicendo, se noi non accendiamo i riflettori su quei contesti e sulle crisi, noi non capiremo e non sapremmo cosa dire a chi fugge dall'Eritrea, per esempio, o c'è dittatura, e non sapremmo comprendere che cosa sta accadendo in quell'area. Quindi, una prima risposta è, i media aiutano a capire i fenomeni e in questo, a non creare delle paure e delle insicurezze. I media aiutano anche, secondo me, a collegare i fenomeni nelle cornici, corrette. Si parla di povertà. Adesso, gran parte dei flussi dati dal Ministero degli Interni, non c'è un'invasione, la percentuale di stranieri è costante negli ultimi anni, anzi, coloro che arrivano spesso usano, tra virgolette, l'Italia come paese di transito e cercano di andare in altri contesti, in altri paesi. Molti economisti delle immigrazioni adesso, per esempio, sostengono che l'Italia sia un paese che attira i flussi dei cosiddetti, così definiti migranti economici, perché c'è un mercato di legalità nel lavoro che non c'è in altri paesi europei. E quindi, cioè, quella potrebbe essere una cornice, raccontare il fatto che nelle campagne di Rosarno, piuttosto che nell'agropuntino, piuttosto che in quelle aree è la criminalità organizzata, quindi la cornice è quella dello sfruttamento del lavoro da parte della criminalità organizzata e non il fatto che arrivano e poi stazionano davanti alle persone. Terzo punto. Sì, è vero che c'è un'insicurezza perché ci sono degli ovvi problemi, cioè quando si svolgono le formazioni di carta di Roma, non è che si dice che è l'associazione appunto che tutela la rappresentazione dei migranti, non è che si dice che non ci sono delle aree di criticità, anzi, se a tutti noi capita di uscire da certe stazioni e di vedere appunto magari gruppi di persone, di associarli anche alla marginalità, quindi alla povertà, però appunto la questione è quella ed è un problema di politiche, di ordine pubblico e di gestione di quell'ordine pubblico in un determinato contesto e non la generalizzazione di quel contesto a tutta l'Italia, perché come si diceva probabilmente nel centro di Perugia la marginalità e la povertà non crea insicurezza proprio perché non viene vissuta come tale dai cittadini. Quindi in questo senso io credo che spesso si esce con dei dati di insieme, ci sono dei media che svolgono un'ottima informazione che aiutano a comprendere i fenomeni, diciamo che quando appunto si entra nel mainstream, cioè nella notizia che viene data nei 30 secondi del telegiornale, piuttosto che nella notizia che viene rilanciata deliberatamente da alcuni organi di stampa, invece c'è il rischio di alimentare l'insicurezza proprio perché il messaggio è semplificato e si usa allarme, adesso è ritornato anche il termine clandestini, anche diciamo non nelle testate che hanno una visione negativa nei confronti dell'immigrazione. Però insomma le risposte sono, cioè per contrastare l'axonofobia, cioè quindi la paura dell'altro, non diceva Capucinski, bisogna cambiare lo sguardo e riflettersi in un altro diverso, quindi dare quanto più possibile informazioni. Caprice, facciamo l'ultimo passo, quello guardando il futuro, cioè come le ONG adesso devono, diciamo in qualche modo, trovare una via riuscita in questa situazione critica. Secondo te le ONG da un punto di vista anche della trasparenza interna, per esempio noi abbiamo parlato tantissimo del caso appunto dei migranti, però l'altro grande scandalo insomma è stato quello degli abusi sessuali, soprattutto Oxfam che è comunque una grandissima organizzazione non governativa, eccetera, eccetera. Voi avete fatto una scelta che io ho notato e ho condiviso il fatto che siete stati in qualche modo molto trasparenti dicendo che, uscendo con un comunicato dicendo che anche voi avete riscontrato insomma, come vostra organizzazione, alcuni casi insomma di abusi sessuali che avete però subito provveduto insomma a risolverli, insomma, eccetera, eccetera. Cioè non pensi che l'ONG ha un dovere quasi etico pubblico di una trasparenza maggiore di qualsiasi altra associazione che possa essere un partito, un sindacato o via dicendo. Cioè nel senso che proprio per la sua missione etica dovrebbe essere ancora più trasparente, ancora più casa di vetro rispetto a qualsiasi altro. Sì, direi che è abbastanza normale che sia così, senza dubbio lo è nella percezione di chi segue il lavoro delle nostre organizzazioni, di chi lo sostiene e così via. Per quanto riguarda quanto accennavi prima, cioè la scelta appunto di essere proattivi nel comunicare, direi più che dei dati, come Medici Senza Frontiere, insomma, come alcune tra le nostre organizzazioni gestiscono questo problema. direi che quella scelta è stata motivata innanzitutto dal fatto di voler passare un messaggio, ovvero che in un mondo in cui comunque queste cose possono accadere e come dire aiuta poco il metterle in prospettiva da un punto di vista statistico, no? Nel nostro caso erano mi pare 24 casi nell'anno precedente, nel 2017, noi abbiamo 42.000 persone che lavorano per Medici Senza Frontiere, quindi fate voi il rapporto. Il tema di fondo è che comunque è un'occasione unica l'attenzione appunto che si pone a questo tema per cercare di migliorare ulteriormente la situazione, ovvero per creare tutte le condizioni possibili perché qualunque tipo di abuso, poi il tema si è concentrato sugli abusi a sfondo sessuale, ma vi possono essere altri abusi, in generale qualunque tipo di abuso di potere sia stigmatizzato e sia in qualche modo combattuto. E le nostre procedure sono, è un tema su cui lavoriamo da oltre 15 anni, ma comunque tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, quindi quello che volevamo comunicare è questo. Poi scusate, non entro nel merito del come si è scoppiato il caso di Oxfam in Gran Bretagna in un dato momento, con i rapporti di Oxfam, che sappiamo, come dire, gli intrecci fra Oxfam e il mondo istituzionale politico inglese, per un caso successo sette anni prima, sono tutte cose che poi sta altri a analizzare, però dal nostro punto di vista era, ripeto, penso, ed è molto importante informare chi segue le nostre organizzazioni che c'è una vera, sincera attenzione rispetto a questo tema, che è dovuta anche perché comunque siamo organizzazioni che le nostre, credo di poter parlare anche a nome di altre, stanno cambiando un po' pelle, tutte le nostre organizzazioni sono in qualche modo nate nel nord del mondo, prevalentemente tra Europa e Nord America, ma con l'andare del tempo, molto rapidamente, per fortuna stanno diventando organizzazioni dove, come dire, la provenienza geografica e culturale delle persone che vi lavorano è sempre più ampia e quindi questo evidentemente comporta anche una necessità di allineamento dal punto di vista, o comunque di reciproca comprensione dal punto di vista delle rispettive culture e così via, quindi temi di questo tipo sono veramente centrali. Dopodiché sulla trasparenza, lo diceva anche Marco prima, probabilmente siamo del settore più, sia da un punto di vista normativo, ma anche proprio per quello che noi, in qualche modo, dove fissiamo noi la sticella, siamo tra i settori, se non il settore più attento, ma questo penso che derivi dal fatto anche appunto di, volendo rimanere indipendenti e quindi volendo contare sul supporto anche delle persone che ci seguono, non possiamo che essere trasparenti, è una scelta obbligata. Senti Marco, non pensi che sia quindi, per concludere questo discorso, che sia comunque giusto che anche le organizzazioni non governative debbano essere oggetto di inchiesa giornalistica? Certo, assolutamente, come dicevo prima, come gli ultimi e i penultimi dovrebbero stare dalla stessa parte insieme alla crescente classe media, così gli attori civici, poi ONG, aveva anche un'accezione giuridica in Italia, fino alla riforma, però gli attori civici consapevoli e i giornalisti e i media in generale dovrebbero capire che stanno dalla stessa parte se vogliamo una società vitale. Quindi figuriamoci, certamente non solo le inchieste e quando è il caso, ovviamente, anche lo Stato, se funziona bene, perché poi ci sono anche in alcuni paesi, processi politici, se vogliamo, ma anche lo Stato deve poter condurre le proprie inchieste, che siano inchieste parlamentari o che siano inchieste giudiziarie, ma ci mancherebbe, non c'è nessuno che si può immaginare di ergersi sopra la legge o sopra il giudizio collettivo. Chiaramente chi esprime anche delle posizioni basandole sulla conoscenza, sulla presenza sul territorio e anche, diciamo, sul fatto di potersi permettere di avere una legittimità che deriva, se vogliamo, anche da un allur di moralità positiva, insomma, guardata con attenzione, deve fare tripla attenzione rispetto agli altri. Però forse la mia osservazione finale, diciamo, su questo, torna un po' all'inizio. Noi, molto prima che succedesse il 2017, insieme ad altri, abbiamo osservato che il fatto di essere quelli buoni non basta, cioè vogliamo essere quelli anche un po' incazzati, se serve, nel senso che il nostro obiettivo è di riportare più giustizia, di ridistribuire potere, non è di fare del bene genericamente. Noi stiamo a fianco, abbiamo sempre detto per anni, diciamo, stiamo a fianco dei più poveri e degli esclusi, oppure a volte siamo noi, scusate se la posso dire così, i poveri e gli esclusi sociali, nel senso che noi riteniamo, insieme ad altri, che la società civile, che si vede sempre più distaccata dai decisori politici, debba ritornare a mettere le persone al centro e la loro capacità di decidere. Quindi io voglio decidere non solo di che cosa si fa nel mio condominio, ma anche voglio potermi preoccupare legittimamente di cosa sta succedendo in Siria. E solo così la società globale può sperare di arrivare, diciamo, a delle soluzioni che siano più condivise. Quindi non basta, diciamo, fare le prediche morali, bisogna essere sul terreno, bisogna avere conoscenza, bisogna sottoporsi a tutte le regole di controllo e quando qualcuno cerca di, come dire, raccontare una storia diversa da quella che è, sia che sia direttamente implicato, sia che sia implicato qualcun altro, devi anche sapere alzare la voce. Un grosso problema, se vogliamo, in Italia e nel mondo occidentale è che le NG sono state poco in grado di mobilitare le persone oltre, diciamo, le firme, le petizioni, attirare anche fuori i soldi. Forse dobbiamo lavorare per essere anche più in grado di far sì che le comunità con le quali lavoriamo, come dire, alzino loro, non noi, alzino loro la voce ed è anche per questo il nostro lavoro in Italia quando diciamo sulla qualità della democrazia, vuol dire che se non funziona qualcosa su come viene ricostruita la città dell'Aquila, piuttosto che il terremoto, piuttosto che la mancanza di asili a Reggio Calabria, piuttosto che quello che vuoi, siano i cittadini ad alzare la voce. Ma significa che quindi dovete anche voi comunicare meglio? Eh, dobbiamo... Ma fare un po' un mea colpa da questo punto di vista... Guarda, noi ce la mettiamo tutte per questo anche che siamo qua, ovviamente abbiamo delle risorse da pulce rispetto ai grandi attori della comunicazione, perché se io e Gabriele avessimo potuto decidere che cosa si è detto sui giornali negli ultimi, non ci siamo ancora riusciti a comprare né una squadra di calcio, né un giornale, nulla, però magari ci arriviamo, che lo sa, ma ce la mettiamo tutta. Va bene. Allora, io direi abbiamo un quarto d'ora per le domande del pubblico, che penso che sia la parte più interessante. Prego. Sì, forse ci sarà il microfono che arriva, oppure magari alzando la voce può... Eh, arriva. Ah, aspettiamo il microfono. Aspettiamo il microfono, che è meglio. Dove? Qua in mezzo. Perfetto. Marco Dapponte, hai detto che è importante anche dove uno è nato. Allora, io sono marchigiano, sono venuto apposta, diciamo, in una delle tante culle del giornalismo, come può essere questo festival, perché mi pongo da un paio d'anni una domanda. come mai chi si occupa di giornalismo, ma tutti, ma proprio tutti, nessuno si è accorto o ha dato peso al fatto, parlo di Brexit, che sono nati, dopo che la Gran Bretagna è entrata dell'Unione Europea, più Born UK, che non, e il referendum ha utilizzato la leva, ritorniamo come quando eravamo inglesi. Allora, l'anno prossimo, il 62%, ho preso Population Piramide, insomma, non c'è da fare grandi, il 62% dei cittadini britannici saranno nati durante il periodo in cui c'è stata la presenza all'interno dell'Unione Europea. questo può non bastare, però Marco Gapponte mi dice che può essere un motivo se ci si lavora sopra, ovviamente, perché non basta un certificato anagrafico. è una provocazione, ma mica tante, insomma. Non so esattamente in quella storia. La domanda qual era, però non si è capita. Allora, più che la domanda... Era. È una provocazione. Abbiamo capito il ragionamento, però manca la domanda. Cioè, come mai chi si occupa di cose pubbliche e di sociale non si è accorto di questo dato e non lo ha esaminato, non lo ha ponderato per valutare se è un dato importante, perché Marco Gapponte dice che è un elemento da prendere in considerazione. Su tutta la stampa non è mai apparso questo elemento. Io ne ho parlato, l'anno scorso sono andato al meeting di Rimini, c'era Paolo Magri, gli ho fatto la stessa domanda, ha detto, in effetti, anche noi esperti di politologia, questo elemento non l'abbiamo mai preso in considerazione. Quindi non c'è una domanda. Ma posso fare una controosservazione? Sì, sì, fai la contro... È una controrreplica alla tua osservazione. Sì, sì, no, posso specificare meglio. Quando siamo arrivati a parlare, diciamo, dell'importanza di dove uno è nato, di quali risorse ha, eccetera, era perché volevo specificare il fatto che le cosiddette faglie della disuguaglianza sono di varia natura. Non riguardano solo il reddito che uno percepisce o non percepisce, la disuguaglianza di reddito di quelli che lo percepiscono, quindi non solo quanto si guadagna, ma la ricchezza, la povertà, riguardano anche, diciamo, il patrimonio, e riguardano anche tutta una serie di elementi che costituiscono il giorno in cui sei nato, una diversità tra me e lui, di cui so poco, diciamo, al punto zero, cioè nel momento della culla. Una di queste dimensioni, di queste faglie, riguarda il luogo in cui si è nati. E senza dire il povero abitante etiope o il ricco di New York, ma anche dentro il nostro paese, ci sono molti studi e molte osservazioni sull'importanza, diciamo, per dirla semplice, di dove sei nato. Stiamo vedendo, per esempio, la popolazione in Italia, neanche tanto che si sta urbanizzando, ma che sta scendendo dalle montagne alle vallate, perché le opportunità di arrivare vicino ai siti produttivi, quindi di avere un lavoro, quindi, o prima ancora, di andare in una scuola di un certo tipo, di avere opportunità di fare sport, di prendere una cultura, dipendono tantissimo da dove sei nato. Quindi, in questo senso, poi si possono fare tutte le considerazioni molto più ampie, quindi, come tutti i formi, come cittadino, dipende anche da come sei nato. Certo, ma anche perché, proprio per chiudere il discorso, ormai proprio le ultime elezioni, ma non solo in Italia, che abbiamo visto anche in America e in Francia, per esempio, e anche sulla Brexit mettono in evidenza come il voto metropolitano è un voto che è totalmente diverso dal voto della provincia o delle aree un po' meno, diciamo, più dimenticate. Questa guardare Milano e la Lombardia, per dire un posto produttivo. Oppure il centro di Roma e la periferia di Roma, quindi sicuramente questo è chiaro. Però io penso che sia anche forse un errore guardare solo al momento elettorale come momento di espressione, diciamo, di una cittadinanza più compiuta o meno, perché uno può essere un cittadino attivissimo, impegnato in centomila cose, io dico sempre che per contare non basta contarsi, cioè la democrazia non è solo il momento elettorale, no? Quella è una cartina al tornasole, quindi anche la Brexit è una cartina al tornasole, insomma. Però le diversità e invece la capacità di essere cittadini attivi si dovrebbero misurare, siamo poco abituati a farlo, secondo tutta una serie di parametri. La capacità di sostenere un dibattito come questo, di interessarsi a un dibattito, è democrazia, no? di crearlo. Un po' si sta perdendo questo... Cioè la democrazia partecipativa, tu pensi? Sì, non solo partecipare... Cioè è rimasta la democrazia dei palazzi, dei luoghi pubblici, ma manca quella partecipativa. Ma quella forse è anche una banalizzazione, cioè si tende a contarsi, ed è importantissimo che non tutti possono contarsi, questo bisogna ricordarcelo, no? C'è stata... Però, diciamo, la democrazia si fa partecipando anche alla formazione della decisione, non solo mettendo il voto nella decisione. Ok. Posso aggiungere una... Sì, sì, certo. Perché l'osservatorio di Pavia aveva condotto, nell'anno della Brexit, un'analisi tra i principali telegiornali pubblici europei. E tra i principali telegiornali pubblici c'era quello BBC One, BBC che viene trasmessa nel Regno Unito, non il canale satellitare BBC World. Ci eravamo stupiti perché, a differenza delle rilevazioni degli altri anni, nel 2016 la BBC era calata notevolmente nella percentuale di attenzione all'estero, agli esteri in generale e poi soprattutto alla questione delle crisi umanitarie. E era un po' in linea, no? Anche con quel voto e con l'atteggiamento, poi con quanto era avvenuto. Dopodiché c'è anche un dato poi relativo alle politiche di istruzione. Negli ultimi anni è in corso un cambiamento nel Regno Unito rispetto a quello che viene insegnato a scuola, soprattutto nella parte secondaria. Cioè il fatto che per esempio ci si concentri nelle materie letterarie in storia solo su quanto è avvenuto nel Regno Unito, cioè in Inghilterra, quindi tralasciando tutta la parte della storia, anche della storia americana peraltro. Quindi anche c'è appunto, una risposta rispetto ai dati potrebbe essere quando poi ci sono anche politiche nel settore delle istruzioni, che è fondamentale, che vanno in una certa direzione. cioè i cittadini stessi hanno ancora maggiore difficoltà a prendere consapevolezza e poi appunto a guardare il mondo con attenzione. Volevo chiedervi se secondo voi alcune ONG mancano di un po' di sano lobbismo per far emergere alcuni temi nell'ordine dell'agenda del Parlamento o comunque dell'opinione pubblica, quindi un po' più di forza per imporsi nel dibattito, se forse si è lasciato questo, alla società civile che è un concetto secondo me un po' evanescente. Ecco, questo Gabriele è una bella domanda però, la capacità di lobbying dell'ONG. Direi innanzitutto che occorre fare del distinguo, nel senso che ci sono appunto, prima accennavamo alle differenze di ambiti di azione fra Medici Senza Frontiere e Action Aid, ma evidentemente le stesse differenze a maggior ragione poi si ritrovano anche tra noi ed altre realtà, ovvero ci sono organizzazioni, penso ad esempio di queste parti Action Aid, ma non solo, organizzazioni che si occupano di difesa dei diritti umani, per le quali, come dire, c'è un'attività di advocacy, diciamo di diplomazia silenziosa, per non usare il termine lobbismo, è parte veramente intrinseca del proprio lavoro, e quindi ci sono anche competenze, esperienze molto specifiche e molto radicate. Nel nostro caso, diciamo che questo tipo di attività, anche là, è parte del nostro lavoro, lo facciamo, come accennavo prima, non tanto come attività fine a se stessa, ma sempre in subordine, come mezzo per arrivare al fine, e il fine è quello di qualunque organizzazione medico-umanitaria, quindi ad esempio di preservare uno spazio all'interno del quale si possa fare umanitario, si possa esercitare l'atto umanitario, se capisco bene la tua domanda, o meglio, se provo a intuire quello che c'è fra le righe della tua domanda, correggimi se sbaglio, ma non è che siete un po' troppo naif, che siete un po' sprovveduti da questo punto di vista? Non lo so, può darsi, può darsi che forse siamo rimasti ancorati a un mondo che non è più quello, dove magari c'è una disinvoltura maggiore a livello istituzionale, e che forse dobbiamo immaginare anche modi un po' più, come dire, rivedere il nostro modo di fare advocacy, questo può essere uno spunto senza dubbio interessante, ma ti garantisco che comunque è gran parte del, non gran parte, che è assolutamente parte del lavoro che facciamo tutti i giorni. Marco, voi quanto siete naif? Più che naif, devo dire che anche c'è da scontare una questione dimensionale, perché il fatto che per esempio noi abbiamo una decina di persone che si occupano di fare advocacy in Italia sui nostri temi, è una cosa, come dire, che ci permette di farla molto di più rispetto a chi ne può fare zero, ma ci pone questa domanda di quanto riusciamo ad incidere andando sulla parte normativa in assenza di una volontà politica di recepire. Allora, noi il paradosso è che ci troviamo spesso, per esempio, ad intervenire, diciamo, su un livello medio-alto dell'amministrazione pubblica, non so, i direttori generali dei ministeri, che hanno, forse come i giornalisti abbiamo detto prima, lo stesso nostro problema di accesso al decisore politico. Cioè, a volte ci troviamo con il direttore del Dipartimento X del Ministero del Welfare perfettamente d'accordo sul da fare, ma insieme abbiamo la difficoltà di mettere certe cose sull'agenda, diciamo, di quella che è la politica che si vede. Senza parlare di cose specifiche nostre, dico una cosa che vale per tutti, è stata una battaglia estenuante che quindi vuol dire ore e ore di lavoro di staff, che quindi ti devi pagare, devi trovare le risorse che nessuno ti dà se vai direttamente sul progettino, fare inserire come punto di riferimento sulla, diciamo, la legge della riforma del terzo settore il fatto che questo terzo settore si qualificano come organizzazioni di terzo settore, quindi tutte quelle che concorrono all'interesse generale. Mettere quelle due paroline lì è stato un anno e mezzo di lavoro. Allora, forse Naif ha tutta una serie di ricadute a valle e anche un costo enorme di cui poi nessuno parla. Non è che ce la possiamo vendere per farci dare più risorse per poi fare il lavoro che invece è necessario sul campo. Decidiamo di farlo perché riteniamo che sia giusto farlo. e così su mille altri provvedimenti. Ci sono però anche grandi vittorie che voglio rivendicare. Allora, adesso se tanta discussione sul reddito di cittadinanza sì, reddito di cittadinanza no. Però, da quest'anno esiste la misura del reddito di inclusione sociale. Quelle sono 35 organizzazioni di società civile e noi ci siamo impegnati tantissimo in questo che hanno studiato il da farsi visto la necessità del sistema di welfare italiano proposto una misura abbiamo detto che servivano 7 miliardi ne è stato messo un miliardo e 7 all'anno però non è il progettino è un miliardo e 7 di conti pubblici quindi non facciamo neanche tanto schifo diciamo dal punto di vista dell'advocacy. Va bene, va bene. Allora, facciamo l'ultima domanda io sono arrivato in ritardo ma ho sentito dire subito la globalizzazione è fallita poi voi avete esaminato la globalizzazione diciamo dal punto di vista sociale un po' dal punto di vista economico ma in soldoni l'Italia dalla globalizzazione sotto i due profili ha guadagnato è stata positiva per l'Italia oppure no perché quelli contro la globalizzazione dicono e per esempio sia dal punto di vista per ambe due punti di vista è stato un fallimento e allora per esempio dobbiamo far morire la gente nel Mediterraneo o li dobbiamo accogliere tutti come dice il Papa ed altri economicamente con il cambio anche dalla lira all'euro come in poche parole qual è il vostro giudizio non so se la domanda è chiara sì 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 la domanda è chiarissima posso anche rispondere no visto che sono comunque di base un giornalista economico la globalizzazione è fallita nel senso che non è riuscita a dare nelle società occidentali cioè ha portato dei benefici ovviamente nel breve termine che è quello il fatto che diciamo tutti noi consumatori paghiamo determinati beni determinati servizi meno di quanto li pagavamo prima adesso è più semplice che ne so volare prendere un aereo rispetto a 20 anni fa puoi comprarti che ne so dei vestiti di media fattura insomma anche ad un prezzo abbastanza abbastanza contenuto quindi questi sono i benefici che ha portato alla globalizzazione proprio perché si sono aperti i mercati questo è ovvio però ha fallito nel redistribuire diciamo queste ricchezze da un punto di vista sociale cioè nel senso che la società è diventata sempre più darwinista sempre più competitiva e quindi come avviene in natura che c'è il predatore che mangia di più quello più bravo che diventa sempre più grosso sempre più più forte e così c'è invece quello che meno si riesce ad adeguare a questa competizione che invece soffre sempre di più ed è quello che vediamo oggi cioè in Italia vediamo che comunque la soglia di povertà piano piano aumenta sempre di più ma aumenta perché una certa classe classe media insomma perché poi è quella che fa la massa critica una volta veniva chiamata il ventremolle dell'Italia in qualche modo quella classe media sta scivolando piano piano verso insomma la soglia di povertà connesso però al fatto che al di là del del livello di benessere attuale quello che conta poi da un punto di vista economico ma da un punto di vista sociale sono le prospettive future se tu non vedi che quel livello di benessere possa in qualche modo nei prossimi vent'anni trent'anni rimanere tale tu magari intanto hai un'ansia una paura che te la porti poi dietro e poi questo si ripercuote come dicevamo prima pure poi quando vai a votare questo è inevitabile e poi comunque magari tante scelte non le fai oppure le rimandi il fatto che in Italia trent'anni fa se si vanno a vedere le statistiche sempre dell'ISTAT i matrimoni la media dei matrimoni era attorno ai 25 anni e attorno ai 26-27 anni c'era la media del primo figlio adesso è tutto posticipato di 7-8 anni negli ultimi anni insomma più o meno adesso vado a memoria però se si va sul sito dell'ISTAT ci sono tutti i dati e questo secondo me è molto connesso insomma a questa diciamo a questo scenario che noi che noi viviamo sostanzialmente viviamo tutti noi e la globalizzazione è fallita per questo motivo qui e il fatto che come dicevo prima proprio quegli organi di stampa che hanno fatto della globalizzazione proprio una specie di mantra negli ultimi vent'anni e che hanno condizionato anche le scelte politiche perché la sinistra da un certo punto in poi è diventata molto pro globalizzazione pro libero mercato eccetera con tutte le fasi Clinton Blair la terza via e via dicendo e poi un anno fa un anno e mezzo fa l'Economist se ne viene con una copertina dicendo scusate abbiamo sbagliato perché pensavamo che potesse essere positiva invece in realtà magari gli aspetti negativi sono stati maggiori degli aspetti positivi che pur ci sono stati ora qual è la soluzione sono i dazzi di Trump oppure ritornare a fare guerre ritornare agli stati sovrani no non penso che sia quella la soluzione però quantomeno diciamo un ritorno a un livello dell'economia che sia un po' più sociale che poi è quella che noi in Italia abbiamo sempre vissuto Marco faceva riferimento appunto quando c'era ADC e il partito comunista comunque erano due grossi partiti di massa dove che anche se in modo diverso mettevano le relazioni le reti sociali al centro del del proprio essere cosa che invece i partiti attuali fanno fanno molto pochi ma molto poco quindi si dovrebbe tornare a un livello di economia sociale insomma sempre di mercato economia sociale di mercato ma che in qualche modo cerca di mettere dei paletti e dei limiti alla competizione più sfrenata alla globalizzazione più sfrenata che però ha portato a questo stato delle cose insomma questo è un po' il mio non so se è rimasto soddisfatto insomma però la lega ha avuto la paura certo 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 infatti parlavamo prima anche di questo insomma guardando la realtà è questa la realtà poi come sanno benissimo tutti gli interlocutori la realtà è sempre perfettibile grazie al lavoro degli esseri umani e quindi io voglio continuare ad essere ottimista non voglio anche io lasciarmi insomma al pessimismo della ragione da questo punto di vista dobbiamo finire mi dispiace grazie mille grazie a tutti Grazie.